Manca meno di un mese al suono della prima campanella che decreterà l'avvio di un nuovo anno scolastico. Da lunedì 12 settembre gli studenti abruzzesi torneranno infatti a occupare i banchi di scuola e mentre i ragazzi sono alle prese con il rinnovo del corredo scolastico tra libri, astucci, zaini e quaderni, gli amministratori degli enti locali si occupano di ultimare i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici per garantire un ritorno a scuola decoroso e in sicurezza. Nel capoluogo tiatino la provincia di Chieti è impegnata con interventi complessi e onerosi che riguarderanno l'ITIS e il MASCI, mentre con l'acquisizione del Ciaapi da parte della provincia il liceo artistico tiatino avrà finalmente una sede definitiva, come spiega Filippo Di Giovanni, consigliere della provincia di Chieti, con delega al patrimonio e al bilancio. È una situazione sulla quale sono stati concentrati importanti investimenti di finanziamento e di manutenzione. Finanziamento perché nel capoluogo le risorse destinate all'abbattimento o ricostruzione dell'ITIS per l'adeguamento sismico, le risorse per il completamento del MASCI, è una serie di investimenti su tutte le strutture con una serie di manutenzioni, penso al Gagliani e penso al Vico, renderanno le nostre scuole pronte e fruibili per l'inizio dell'anno scolastico. e le metteranno al centro di una progettualità complessiva che attraverso il completamento di importanti cantieri che apriranno nei prossimi mesi vedranno veramente una grossa attività di ristrutturazione su scuole che avevano bisogno da tempo di adeguamenti sismici. Sull'intera provincia c'è una massima attenzione da parte dell'amministrazione Menna per far sì che tutti gli studenti siano messi in condizioni di riaprire l'anno scolastico e di trovare le strutture al massimo dell'efficienza e della funzionalità. Penso anche all'investimento da parte della provincia di Chieti per inserire purificatori di aria che in questa fase post-covid ma non ancora superata del tutto la pandemia potranno essere installati in tutte le aule sicuramente a beneficio della salute degli studenti. Ci sono degli interventi un po' più importanti che la provincia ha messo in atto e che riguardano in particolare il liceo artistico che avrà finalmente la sua sede nel Ciappi e poi il liceo Masci, dicevamo, e anche l'ITIS. Insomma, su queste tre scuole si può dire che c'è stato un focus un po' più specifico con interventi più importanti? Sì, tre interventi significativi fra i quali l'acquisto della sede storica del Ciappi dopo una serie di vicende complesse e controverse che hanno interessato quella struttura oggi nasce con una nuova vocazione, rinasce anzi, e vedrà lì collocata la sede definitiva del liceo artistico un investimento di 1.400.000 euro da parte della provincia per acquistare la struttura più diverse altre centinaia di migliaia di euro per implementarla e renderla efficiente inoltre oltre un milione di euro per completare la sede storica di Via Verni a Chieti una scuola importante, la sede del Masci, che aveva bisogno di risorse per il completamento. L'ultima opera, ma anche quella da un punto di vista economico maggiormente impattante e significativa, la risorsa di oltre 10 milioni di euro per l'abbattimento e ricostruzione dell'ITIS, una delle scuole più grandi, anzi forse la più grande del capoluogo, che è già prossima la fase di assegnazione dei lavori al termine di un iter molto complesso che comunque ha visto la nostra amministrazione impegnata al massimo per definire questa procedura.